un bordello della madonna fischia ragazzi io già vi sto sentendo che starete dicendo ma perchè fa uscire questo video nonostante la trattativa politano spinazzola sia molto probabilmente saltata vi rispondo facilmente ieri come ben sapete abbiamo fatto la nostra solita giornata di visite mediche siamo riusciti a vedere leonardo spinazzola e quindi la decisione che ho preso è di far uscire comunque va dalla trattativa questo video ragazzi attendiamo novità seguiteci anche su instagram e facebook trovate il link in descrizione per seguire con noi la trattativa dalle varie testate giornalistiche incrociamo le dita che tutto possa andare per il meglio al di là di questa trattativa in questo calcio a mercato per la nostra squadra che tanto amiamo e io vi lascio al video buona visione allora vediamo chi di voi indovina sono di fretta? ovvio è bello il tempo a Milano? ma basta per piovere fantastico certo te lo scena in azzurri è il giorno delle visite mediche di Leonardo Spinazzola scambio con la Roma Matteo Bolitano a loro Leonardo Spinazzola a noi lui praticamente è quasi al coni noi siamo ancora nei pressi della periferia di Milano se così possiamo dirla e si corre si corre si corre rodo tu coni e poi veremo qui vicino all'Humanitas dai crociamo le dita di beccare almeno una volta dai tre minuti dopo piove d'altronde c'è la vista medica di Spinazzola non pioveva da 50 anni giusto siamo arrivati al coni ben arrivati non piove più ospite d'eccezione ma c'era dice che oggi è venuto a sostenerci moralmente e niente vedete la scritta coni attendiamo il Leonardo Spinazzola che ovviamente in questo momento è all'Humanitas che noi prima eravamo vicino all'Humanitas siamo venuti a coni lui dove va? all'Humanitas è atterrato qui vicino vabbè scelta della società lo attendiamo all'entrata e lo aspettiamo anche l'uscita dai dai Leo benvenuto allora raga il giocatore è entrato adesso si aspetta la mezz'ora tre quarti d'ora come di consueto le sta svolgendo adesso l'idonità sportiva all'interno del coni dovrebbe essere la seconda porta dimentica perché la prima l'ha svolta come sempre all'Humanitas e attendiamo adesso che esca il giocatore ciao ciao Leo missione completata possiamo dire in parte perché l'Humanitas ce lo siamo persi purtroppo però ingresso e uscita dal coni noi ce l'avamo noi non manchiamo mai soprattutto al coni e questo era il nostro video delle visite mediche di Leonardo Spinazzola e speriamo vi sia piaciuto se così mettete like commentate quando vi vedete tirate la campanella per seguire tutti i nostri video iscrivetevi al nostro canale youtube basate da tutti i nostri social in descrizione anche quella del nostro grafico noi ci vediamo o al prossimo acquisto o alla prossima partita Forza Inter ciao a tutti i nostri grazie a tutti i nostri